Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Sulla statale 16 ferita una donna rimasta incastrata nell'auto capovolta Un 21enne ubriaco scatena il panico tra i passanti nella centralissima via Garibaldi a Fano poi prende assediate i poliziotti che tentano di calmarlo Disagi in centro a Fano in ambulatori medici, farmacie, negozi a causa di un blackout elettrico avvenuto nella notte e risolto poco prima di mezzogiorno Matteo Salvini torna nelle Marche e il 20 febbraio sarà a Pesero per la campagna elettorale regionale Il Caneval di Fano invita Greta Thunberg a partecipare all'edizione 2020 dedicata all'ambiente e alla salvaguardia del pianeta Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Apriamo con la cronaca La squadra mobile di Pesero ha sgominato una banda di ladri tutti albanesi che era dedita a compiere furti in varie città della provincia tra cui Pesero e Fano Questa mattina in conferenza stampa i particolari di questa operazione La squadra mobile di Pesero ha tratto in arresto una banda di giovani albanesi tre uomini ed una donna ritenuti essere gli autori dei furti pomeridiani avvenuti nell'ultima settimana in abitazioni di Pesero, Fano e Marotta L'indagine ha consentito di fermare i soggetti particolarmente attivi nel territorio grazie a due agenti della squadra che la sera del 20 gennaio scorso hanno soccorso una signora in via dei Susini a Pesero che nel momento di rientrare in casa si era trovata di fronte due ladri successivamente in fuga a bordo di una Mercedes con targa albanese che alla vista degli agenti ha accelerato riuscendo in un primo momento a dileguarsi identificati poco lontano i due soggetti a bordo della vettura si mostravano una presunta coppia di fidanzati che hanno dichiarato alla mobile di non conoscere le strade di essersi persi le indagini hanno portato la luce che i due sospettati erano complici dei due ladri fuggitivi e che aspettavano in macchina con il compito di recuperarli al termine del furto all'interno dei cellulari dei soggetti erano presenti fotografie risalenti a mesi scorsi scattate in Lombardia di monili d'oro e orologi di pregio oltre una fotografia che ritraeva il più giovane della banda con in pugno una pistola semi-automatica le indagini sono poi proseguite all'interno della camera di un residence di Rimini dove la coppia aveva preso alloggio dal momento del loro arrivo in Italia il giorno precedente ma la perlustrazione degli investigatori non ha portato nessun esito osservando costantemente il convitto è stata individuata una seconda autovettura in uso della banda identificando poi gli altri due componenti del gruppo il 26 gennaio abbiamo avuto cognizione che loro erano appena rientrati all'interno di questo residence e con l'aria furtiva quindi abbiamo fatto un'immediata irruzione sorprendendoli proprio con l'aria furtiva stesa sul tavolo che stavano dividendo e stavano controllando era l'aria furtiva di un furto avvenuto a Marotta esattamente pochi minuti prima giusto il tempo di rientrare su Rimini a questa banda riteniamo di poter imputare 5 furti commessi a partire dal 20 gennaio e stiamo vedendo anche su altri episodi pregressi non solo interessanti la provincia di Pesaro ma anche la vicina provincia di Rimini il quartetto è stato fermato in flagranza e convalidato l'arresto ieri mattina dal giudice di Rimini il quale ha disposto alla custodia in carcere la trasmissione degli atti alla procura di Pesaro c'è stato un incidente stradale questa mattina intorno alle 9.30 sulla statale Adriatica 16 per 45 minuti ha causato c'è stato questo tamponamento avvenuto all'altezza della deviazione per Ronco-Sambaccio due le auto coinvolte nello scontro una Renault condotta da una donna di 64 anni e un Audi alla cui volante c'era un 25enne di San Costanzo una prima ricostruzione dell'incidente effettuata dagli agenti della polizia locale di Fano l'Audi avrebbe tamponato violentemente la Renault mentre stava svoltando a sinistra in direzione strada comunale della Galassa per l'urto l'auto si è accappottata mentre la conducente è rimasta lievemente ferita e quindi trasportata per accertamento al pronto soccorso cittadino il leso invece il 25enne dell'Audi traffico rallentato e lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni per quasi un'ora e panico e sangue in centro ieri a Fano in via Gabrielli a causa di un 21enne ubriaco che ha preso tra l'altro assediate anche gli agenti della polizia della polizia e del commissariato che sono accorsi sul posto per fermarlo ha preso assediate gli agenti della volante che sono intervenuti per ridurlo alla calma ed è stato denunciato dalla polizia e portato in ospedale a Fano dove è stato ricoverato poi con TSO in psichiatria è accaduto ieri sera poco dopo le 19.30 in via Garibaldi nel cuore del centro storico quando c'era ancora passeggio e di negozi aperti protagonista di questa mezz'ora di follia e panico un afgano di 21 anni regolare sul suolo italiano con permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che lavora nel ristorante cinese all'inizio della via il 21enne probabilmente sotto l'effetto di alcol ha incominciato proprio da lì il suo delirio urlando ed insultando i titolari e i colleghi di lavoro rompendo anche due bottiglie di vetro ferendosi con queste alle mani uscito da lì sempre con atteggiamenti aggressivi e ancora di più in preda al suo delirio ha impugnato una sedia da bar e minocciato passanti e negozianti non contento è entrato nella tabaccheria accanto con le mani insanguinate ha preso un pacchetto di sigarette ed è andato via senza pagarlo ma sembrerebbe che l'etnia cinese fosse il suo bersaglio prediletto perché dopo l'ufficio postale è entrato nel bazar a poca distanza gestito da una donna di etnia cinese terrorizzandola e sotto minacce e urla ha preso un giubbotto pesante lo ha infilato ed è uscito dal locale anche qui senza pagarlo e si è diretto nuovamente verso il ristorante ma qui ad aspettarlo c'erano gli agenti di una volante che erano arrivati nel frattempo e lo hanno intercettato ma l'afgano per nulla intimorito dalle divise per tutta risposta ha preso assediate i poliziotti ed uno di loro è stato colpito violentemente ad una spalla a quel punto visto che con le buone non si otteneva nulla gli agenti con mestiere e prontezza di riflessi utilizzando lo spray al peperoncino in dotazione lo hanno immobilizzato e consegnato nelle mani dei sanitari del 118 arrivati anche loro nel frattempo che lo hanno portato in ospedale dove è stato sottoposto da un TSO e ricoverato nel reparto di psichiatria dove si trova tuttora tra le altre cose e il secondo TSO che gli viene applicato nel giro di appena due settimane il 21enne è stato denunciato a piede libero per lesioni resistenza pubblico ufficiale furto e danneggiamento anche il poliziotto colpito è dovuto ricorrere alla cura dei sanitari ma ne avrà solo per alcuni giorni e adesso invece andiamo ad Urbino i carabinieri della compagnia hanno arrestato per furto un 47enne italiano disoccupato con precedenti specifici protagonista secondo gli investigatori gli inquirenti di diversi furti effettuati nel territorio durante con la tecnica della spaccata gli obiettivi prescelti erano uffici pubblici distributori di carburante o studi professionali dei quali venivano asportati contanti ed oggetti di valore la tecnica utilizzata anche in questi casi è sempre la stessa per entrare nei locali spaccava le vetrate esterne con grosse pietre i militari dopo alcuni servizi di appostamento lo hanno scoperto in flagrante mentre rubava del contante 320 euro da una agenzia assicurativa dove era appena entrato per compiere un furto questa mattina è stato convalidato l'arresto dal tribunale di Urbino il giudice ha disposto per il 47enne la misura cautelare degli arresti domiciliari torniamo a Fano invece perché la notte scorsa intorno alle due in centro è andata via l'energia elettrica c'è stato un blackout che è stato risolto soltanto questa mattina nella tarda mattinata intorno a mezzogiorno interruzione della corrente elettrica per tutta la nottata è parte della mattinata per abitazioni e negozi nel perimetro compreso tra via Nino Bixio e via Magalotti a Fano colpevole di questo blackout un trasformatore è andato in avaria nella cabina Enel che serve la zona proprio in via Nino Bixio la corrente è andata via una prima volta verso le due della scorsa notte la squadra di pronto intervento dell'Enel è subito entrata in azione e ha tamponato il guasto ma il trasformatore da due quintali ha funzionato per tre ore e poi ha esalato l'ultimo respiro lasciando alle 5 di mattina nuovamente tutti al buio compresa anche la scuola Corridoni dove erano attesi per le 8 di mattina centinaia e centinaia di alunni Enel ha iniziato subito le operazioni necessarie per la sostituzione del grosso pezzo e va da sé che non è proprio come sostituire una lampadina nella cucina di casa e quindi mattinata iniziata al buio per negozi rivendite di tabacchi ambulatori medici e farmacia compresa è una mattinata un pochino caotica comunque ecco ci siamo date da fare lo stesso e comunque il problema è stato risolto in breve tempo per fortuna pensavamo un pochino ecco comunque è andato tutto bene siete riusciti a servire l'utenza nonostante tutto diciamo di sì quindi siamo contenti lo stesso insomma ecco alla fine nonostante tutto da stamattina guarda io sono qua nel tabacchi ma è tutto spento quindi praticamente è impossibile far tutto da stamattina così esatto sì da stamattina siamo arrivati alle 8 e quindi non si può far niente non è colpa di nessuno per carità però è un bel disagio insomma alle 10.30 dopo diverse ore di lavoro delle squadre un nuovo trasformatore del peso di due quintali è stato attivato nella cabina ridando corrente all'intera zona e anche alla scuola dove i 400 studenti e il personale scolastico ha dovuto fronteggiare questo imprevisto loro non hanno detto di venirli a prendere logicamente hanno detto che non c'era la luce quindi automaticamente avete pensato di venirli sì perché se avevano freddo e invece è ritornata è ritornata diverse famiglie hanno quindi scelto di portare a casa gli alunni altre invece viste le temperature non troppo rigide hanno optato per lasciarli a scuola dove è stato comunque garantito poi durante la giornata il servizio di mensa scolastica rimaniamo in zona perché a poca distanza dalla scuola Corridoni che abbiamo appena visto cioè l'area dell'ex distributore di carburante il cui cantiere è fermo ormai da diversi anni in attesa dei risultati delle analisi effettuati sul terreno analisi che hanno dato però un esito allarmante con inquinamento di idrocarburi e tracce di solventi fino alla falda acquifera ed ora nel Consiglio Comunale di questa sera i 5 Stelle chiederanno spiegazioni all'amministrazione comunale noi ci siamo interessati dell'area ex Agip già più di due anni fa quando durante i lavori di sistemazione dell'area erano stati rinvenuti degli sversamenti di idrocarburi a 6-7 metri di profondità all'epoca il sindaco si prese l'impegno noi chiedemmo al sindaco l'impegno di diffondere non appena ne fosse venuto in possesso gli esiti e i risultati delle analisi svolte dall'ARPAM e delle operazioni di caratterizzazione dell'area questo purtroppo non è avvenuto ma la cosa più incredibile che abbiamo saputo e appreso non dall'amministrazione ma dai giornali che l'inquinamento non riguarda più solo il terreno ma addirittura la falda acquifera cosa che era stata esclusa nel settembre 2017 noi con la nostra interrogazione che presenteremo stasera in Consiglio non solo vogliamo far chiarezza su questi temi di rilevanza ambientale ma vogliamo anche chiedere appunto come mai dopo tanti anni dalla chiusura del distributore a fine 2015 non siano ancora terminati quindi a che punto siano i lavori e quando è stimato insomma che finiranno infine vorremmo anche chiedere all'amministrazione quale sia la sua intenzione riguardo alla finale destinazione di quest'area che è un'area strategica sia dal punto di vista urbanistico perché è a ridosso del centro storico sia da un punto di vista d'immagine perché ovviamente si affaccia su flussi intensi di traffico di attraversamento che coinvolgono la città come abbiamo detto in campagna elettorale siamo a favore di un percorso partecipato con i cittadini con i portatori di interesse della zona partendo da un'idea di base che mettiamo a disposizione del dibattito cioè quella di realizzare dei posti auto con punti di ricarica per i mezzi elettrici in modo da prepararci al futuro e alla progressiva pedonalizzazione del centro storico e poi verde pubblico di completamento per rendere più gradevole più vivibile questa zona Adesso parliamo invece di un argomento che sta tenendo banco soprattutto a Fano dopo la domenica ecologica scorsa che ha ancora strascichi polemici notevoli ne parleremo tra un attimo adesso invece vi vi leggo l'ordinanza che poi è un'ordinanza che arriva da Pesolo che ha firmato oggi pomeriggio il sindaco Matteo Ricci e che riguarda appunto il contrasto alle polveri sottili e allo smog oggi il sindaco ha firmato quest'ordinanza per la riduzione di due gradi per gli impianti di riscaldamento a legna e a pellet il divieto di accendere fuochi all'aperto e il lavaggio straordinario delle strade con marche multiservizi è un provvedimento in vigore da domani mercoledì 29 gennaio e resterà tale fino a domenica 16 febbraio questo perché l'inverno poco piovoso ha aumentato il livello delle PM10 polveri quindi sottili che come ben sappiamo sono pericolosissime per l'uomo e restando in tema di polveri sottili di ambiente e di di domeniche ecologiche torniamo su quella che si è tenuta domenica scorsa al momento resta confermata ancora domenica prossima a Fano vediamo qui suonano da tutte le parti guarda che roba non sono affatto disposti a passare un'altra domenica ostaggio di auto smog traffico ed inquinamento acustico quello che si è verificato domenica scorsa dalle 9 alle 19 in questa strada dove veniva deviato il traffico in direzione ancona proveniente da via papiria non siamo disposti a tollerarlo ancora ci dicono molti residenti domenica come mostrano le immagini girate proprio da loro via don gentili era un lungo serpentone di auto incolonnate con il motore acceso e che procedevano a singhiozzo rendendo l'aria irrespirabile tolgono le polveri sottili dal centro e ce le prendiamo noi non siamo cittadini di serie b ci dicono e la nostra salute vale quanto quella dei residenti della zona incriminata era una sezione un'aria irrespirabile macchine ferme perché trovavano l'imbuto in fondo alla via inquinamento che è stato tutto su questa via è stata la via principale dove è stato deviato il traffico proveniente sia dalla zona di via Roma che dalla zona di via Papiria ora ad oggi salvo decisioni nel corso della settimana la domenica ecologica del 2 febbraio è confermata come anche la viabilità alternativa predisposta e quindi ciò che si è verificato domenica scorsa qui potrebbe riaccadere anche la prossima ma i residenti sono pronti ad opporsi anche con decisione la domenica prossima noi chiameremo i carabinieri perché sicuramente le polveri sottili che abbiamo già supportato la domenica precedente non si debba ripetere assolutamente la prossima domenica ma oltre che protestare i cittadini propongono visioni e soluzioni alternative a questa presa dall'amministrazione che non ha portato ad un nulla di fatto io seleziono il traffico lo fermo il traffico che viene dalla superstrada che deve andare a Pesaro lo posso inviare tramite le opere compensative sulle strada adriatica quindi verso sud per riprendere l'adriatica per andare a Pesaro quindi il discorso delle vecchie strade Flaminia e Adriatica oggi come oggi non avendo avuto alternative nazionali deve essere ripresa non si può e cioè è assurdo trasformare una via nazionale una viabilità nazionale e inserirla su una via interna una partita quella dell'inquinamento ambientale ancora tutta da decidere da affrontare per la quale in settimana sindaco ed assessori sono chiamati a decisioni importanti e forse anche impopolari e quindi in via Don Gentili i residenti sono in allarme anche uscire di casa era un problema si si bloccati noi non sapevamo di che parte uscire veramente e poi insomma è peggio che quando c'è il carnevale Matteo Salvini torna nelle Marche lo farà a Pesaro giovedì 20 febbraio nel pomeriggio con un incontro pubblico e una cena con i militanti e i sostenitori e gli amici della Lega dopo la campagna elettorale torna nelle Marche per guidare la Lega e il centrodestra allargato alle forze moderate nella battaglia per strappare questa meravigliosa terra alla pessima gestione del PD ha commentato il senatore leghista Paolo Arrigoni responsabile marchigiano la campagna elettorale per il rinnovo del governo regionale è già iniziata stiamo lavorando per garantire ai marchigiani quella svolta e quel rinnovamento che giustamente chiedono per rilanciare una regione condannata dalla sinistra alla decrescita l'appuntamento di Pesaro conclude Arrigoni conferma quanto le Marche stiano a cuore a Matteo Salvini prosegue l'anteprima per sbirciare curiosare all'interno dei capannoni dove vengono realizzati i grandi carri del Carnevale di Fano prosegue l'anteprima e il nostro viaggio alla scoperta dei giganti di Cartapesta sono tanti i furbetti della differenziata che abbandonano rifiuti di qualsiasi genere dove capita chi in un fosso chi fuori dal bidone oppure in mezzo ai campi in bella vista purtroppo quello di scaricare rifiuti è diventata un'abitudine che ancora in tanti non riescono a rispettare nonostante la città di Fano possa vantare uno dei grandi centri di raccolta differenziata ed anche a domicilio è quello che infatti offre la municipalizzata fanese Aset ma per sottolineare questo gesto incivile quest'anno Aset ha ben pensato di collaborare con il Carnevale di Fano visto il tema dell'edizione 2020 dedicato all'ambiente grazie alla mano artistica di Luca Vasilic giovane fanese dell'associazione Carnevale Factory il carrista ha voluto trasmettere un messaggio ben chiaro a tutte quelle persone che ancora oggi abbandonano rifiuti ovunque allora il titolo del carro è Capitano Aset Capitano Aset personaggio inventato dall'azienda Aset S.p.A. Municipalizzata del territorio che si occupa dell'ecologia e della pulizia dell'ambiente dandogli un tono ecco tutto fanese caricaturandolo di quello che è il significato di cui vuole essere la costruzione cioè la sensibilizzazione alla differenziata e l'educazione civica fondamentalmente e invece cosa puoi dirci sul carro? allora Capitano Aset è un supereroe che arriverà ben presto a Fano e porterà via tutti i ciasciuloni dal percorso vuole essere un simbolo di quello che è la lotta contro ecco la sporcizia e il disordine cittadino il carro si sviluppa in due momenti quindi c'è questo soggetto che è Capitano Aset che vola sull'isola ecologica che la differenziata è composta dalla plastica gli imballaggi metallici carta cartone vetro e via dicendo tutto in chiave fanese chiaramente infatti questo Capitano Aset avrà un po' un aspetto ecco anche un po' sbrufoncello che ci sta è un po' anche insito nell'animo fanese dietro da sfondo e due monumenti simbolo della città che sono il campanile della piazza e San Peterniano che è il nostro patrono nel retro ci saranno altre cose che poi non staremo a svelare perché se no insomma non ci sarebbe più la sorpresa e niente altre piccole cose altre piccoli particolari dettagli sorprese che ecco scoprirete solo il nove quando finalmente riusciremo finiti in tempo pronti per le sfilate il Carnevale di Fano invita Greta Thunberg a prendere parte all'edizione 2020 che lo ricordiamo si terranno nelle domeniche del 9 16 20 febbraio edizione che come abbiamo detto è dedicata all'ambiente e alla salvaguardia del pianeta l'ente carnevalesca ha inviato una lettera aperta all'attivista esprimendo apprezzamento per ciò che è riuscita a portare avanti durante questo periodo sulla sensibilizzazione ambientale grazie al tuo impegno e ai tuoi messaggi si legge nella lettera milioni di bambini e ragazzi di tutto il mondo si sono avvicinati a questo tema così importante per il nostro futuro il Carnevale di Fano attraverso un tono provocatorio e scherzoso riesce ad esprimere e a lanciare messaggi importanti coinvolgendo anche tutte le fasce di età e tutti i ceti sociali nelle tre giornate di sfilate sarà presente anche il carro dedicato a Greta Thunberg dal titolo Barbie Greta realizzata dal maestro carrista Mauro Chiappa e con la lettera a Greta aspettiamo ovviamente la risposta ci fermiamo qui il telegiornale è finito grazie per averci seguito tra poco una nuova puntata riguarda chi c'è e poi la presentazione del nuovo logo in occasione dei 70 anni di Avis Fano ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa occhio ai giornali arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.